Io e Giada, migliori amiche da sempre, lei, Giada, una ragazza mite, introversa, amante della natura, che adora passare il tempo libero in campagna nella stalla del nonno. Forse è per questo che la prendono in giro, e anch'io come loro. Mi sento in colpa, piango, ma devo diventare come loro, come le cattive, come le strafighe. Non ce la faccio, devo tornare con Giada. Ma la situazione precipita, precipita ancora e ancora, finché? Grazie. 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 Grazie.